Chi sono io? La domanda fondamentale del chi sono ha a che vedere con quella fiamma vitale che dentro di me è destinata a durare quanto la mia incarnazione, poi dopo si vedrà, e che si nutre di un dettaglio che è solo mio e che riguarda solo me. Questo è chiamato talento per far capire più o meno di cosa si tratti, la parola talento rimanda anche a Raffaele Morelli che ne parla molto spesso per indicare questo, rimanda anche a Hillman, il fare anima, realizzare ciò che si è. Jung diventa ciò che sei, ma cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire trovare il punto della propria salute, vuol dire trovare il punto della via della cura, qualunque sia l'eventuale disagio che stiamo affrontando. Questo è veramente il cuore di ogni percorso dell'esistenza, il cuore del prendersi cura di sé, il cuore dell'uscire da un disagio, ma anche, nella mia esperienza, il cuore dell'esistenza, il cuore dell'affrontare un percorso di terapia per una malattia fisica. Perché? Occupandomi da tanti anni di donne con tumore al seno, proprio tanti anni, dal 94, posso affermare che queste donne, quando comprendono di non avere ancora realizzato qualcosa che era nato con loro, che era profondamente radicato, una passione, un amore, un desiderio fortissimo, un talento, spesso decidono di cambiare la loro esistenza, almeno un po', almeno in un dettaglio e mettono in pratica quanto ritenevano sospeso o inespresso. Ebbene, questo ha un profondo impatto anche sulla loro salute fisica, sulla probabilità di rispondere alle terapie. Per vivere ci vuole un motivo, la fiamma vitale resta accesa, non perché azzecchiamo le terapie in caso di malattia, ma perché ha un motivo valido per restare accesa. E allora stavo menzionando prima la mia parte di vita da senologa, adesso da medico psicosomatico, che si occupa molto di donne e di donne con tumore al seno e effettivamente dopo un'esperienza traumatica come il tumore o durante l'esperienza traumatica del tumore, accade spesso che quel talento, quella passione speciale, quel desiderio ancora non esaudito, quella capacità unica che riguarda ogni persona, vengano fuori e allora ci sono donne che iniziano a scrivere, a dipingere, a recitare, donne che fanno viaggi che non hanno mai fatto, donne che modificano almeno in parte il loro quotidiano perché tirano fuori quel talento lì, usiamo la parola. E a quel punto la fiamma vitale che era un po' confusa, non sapeva se restare accesa o no, c'è stata la malattia, c'è la reazione alla malattia che è una reazione che comprende ansia, depressione, rifiuto, rabbia, rassegnazione qualche volta, la fiamma vitale dice no, allora c'è ancora quel motivo, io posso ancora ardere in pieno, posso ancora mantenere questa persona viva e sana. E le espressioni artistiche o meglio creative delle persone che hanno avuto o hanno una malattia particolarmente grave oppure croniche sono davvero tante e sono meravigliosamente piene dei segni di quella fiamma vitale perché in effetti ciò che noi abbiamo per nascita è solo nostro ed è qualcosa che ci viene facile, è qualcosa che anche nel mezzo di un grande caos, anche nel mezzo di un evento che ci sta preoccupando, che ci sta facendo arrabbiare, che ci rende tristi, ci fa decollare. Quando faccio quella cosa lì non penso più a niente, quando faccio quella cosa lì è come se mi elevassi almeno di un gradino, quando faccio quella cosa lì mi viene facile. Questa è l'espressione di sé attraverso il talento.